al Governo una stabilità del dialogo e del confronto con le parti sociali e con il sindacato che vada oltre la legge di bilancio, chiedendo tavoli di confronto specifici su fisco, pensioni, mercato del lavoro, salute e sicurezza, politiche sociali, accelerazione del piano nazionale di ripresa e resilienza ed anche un'iniziativa trilaterale per una politica dei redditi che contrasti l'inflazione e salvaguardi il potere di acquisto di salari, retribuzioni e pensioni. Anche da questo punto di vista il Governo ci ha assicurato la disponibilità a programmare incontri con il sindacato. Il 12 di gennaio ci sarà un tavolo al Ministero del Lavoro per discutere di salute e sicurezza. Il 19 gennaio partirà il confronto politico per discutere di come cambiamo il sistema della previdenza e delle pensioni. A gennaio al Ministero dello Sviluppo Economico ci sarà un tavolo per discutere di politica industriale e di sistema di aiuti alle imprese, il Ministro Giorgetti ci ha assicurato che a inizio anno convocherà un confronto per discutere di come rafforzare la tassazione sugli extraprofitti non solo alle imprese energetiche ma come noi chiediamo anche alle multinazionali della logistica e dell'economia digitale. Sostanzialmente quindi vediamo una grande disponibilità del Governo nell'impegnarsi a modificare e cambiare i contenuti della legge di stabilità in direzione e in ragione dei nostri suggerimenti e delle nostre richieste ed un'analoga disponibilità ad attivare subito tavoli tematici per affrontare in sede politica il cammino delle grandi riforme per aiutare il Paese a risollevarsi dalle macerie della crisi energetica, della crisi economica e per dare una prospettiva al lavoro soprattutto di giovani e donne.